Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Ecco, secondo me i Casabian sono proprio un gruppo che dimostra che cosa vuol dire fare musica ed essere una band proprio. Ho una stima per questo gruppo incredibile. Sono rimasti veri in qualche modo, cioè sono rimasti attaccati un po' alla loro nicchia mainstream. In qualche modo, sono uno di quei gruppi che secondo me è stato sempre sincero perché non ha seguito più di tanto la tendenza, hanno fatto una loro tendenza. E questa canzone, è un brano che tutti quanti conosciamo perché insomma ci sono brani che sono più famosi del gruppo stesso e che insomma è una canzone che è un inno alla speranza. Parla di guerra, di battaglia, parla di persone in difficoltà, parla di coraggio, parla di come si affrontano le difficoltà della vita. Attraverso come? Attraverso uno storytelling, attraverso il desiderio di andare oltre, oltre l'oscurità, oltre i lati oscuri dell'esistenza. L'unione, l'unione per far fronte a tutto, un'unione vera, palese, un'unione che si scontra alla realtà di questo gioco che come sappiamo nel momento in cui nasciamo ci ucciderà tutti. Sì, un messaggio sì, che è quello di non arrendersi, quindi insomma il classico messaggio, rendiamolo moderno però un attimo, perché insomma in quegli anni sì, questo messaggio si poteva portare così e non era criticabile come oggi in cui ogni 3x2 ci sono reel di persone, anche anziane, che ti invitano a prendere la vita in mano in un certo modo, perché viviamo in una società di persone anestetizzate, però ci sono anche tante persone attive, tante persone che vivono, tante persone che combattono, che sono in guerra, che non si arrendono e loro insomma si va in overdose di autocompiacimento e di autofarsi forza se non si modernizza il discorso. Ascoltando questo brano riflettevo, cosa vuol dire magari per me e per un ragazzo come me oggi, in estate soprattutto che sto registrando, in questa fase di stallo, cosa vuol dire combattere e resistere, cosa vuol dire resilienza? Ecco, secondo me vuol dire appunto uscire un po' dalla zona di comfort dei nostri affetti ed è un discorso che riguarda soprattutto anche i figli, i figli con quello che vivono nel contrasto con i genitori, sapete tutti di cosa parlo, ne parlo tutti i giorni, che più ho a che fare con ragazzi giovani più capisco, in questo periodo un po' meno ma lo percepisco e vuol dire anche in qualche modo dire io questa cosa non mi piace e non la faccio, dire no a un gruppo, dire no alle tentazioni tutte, per scoprire noi stessi, Cioè questa, quella persona, quella situazione, quell'azione, per carità mi può anche divertire a tempo perso, però io voglio di più, voglio altro e me lo prendo, o comunque cerco di arrivarci perché non è facile, non è un dicevo me lo prendo, non è che tutti hanno talento, non è che tutti hanno ambizione, E bisogna capire anche questo, però brani come questo messo in sottofondo, è proprio quello che ci vuole comunicare, è una cosa che va oltre il confine, è una cosa che riguarda le nostre piccole battaglie quotidiane, Non dobbiamo cambiare il mondo tutti, non dobbiamo andare in battaglia, ma a volte cambiare il nostro mondo vuol dire dire no a un amico a cui diciamo sempre di sì, per compiacerlo, per renderlo sereno, perché come spesso si dice, oh vabbè per me è indifferente, dove andiamo a cena? Qui? Va bene, per me è indifferente, poi ti ritrovi che spendi 50 euro per una cena che ti fa schifo, dove andiamo a cena? Andiamo lì, ok a me non mi piace, non ci vengo, vi raggiungo dopo, questa è una piccola vittoria nel quotidiano, ed è anche una roba che dobbiamo renderci conto, che non è che ogni volta che facciamo delle cose che ci intestardiamo, magari no, perché mi dicono tutti non ce la farei mai, devo farcela, ma tu sei sicuro che vuoi farcela? Cioè io credo che la vera battaglia oggi sia fare chiarezza su quello che vogliamo davvero, consapevoli che quello che vogliamo muta nel tempo, il me di oggi non è il me di domani, ma non domani inteso come tra dieci anni, il me di domani domani, ogni giorno abbiamo energie, voglie e forze differenti e questa è la nostra battaglia e non c'è niente di meglio quando affrontiamo la nostra battaglia che è mettere in sottofondo un bel brano dei Casabian, e tra parentesi, voglio, andate sul monologato, andate sulla barra search e scrivete sempre Casabian e troverete il podcast di Goodbye Kiss, che è uno dei miei preferiti che ho fatto in assoluto. Ragazzi, che dire, godetevi questo caldo, godetevi il ferragosto, io come vedete sono qui e comunque combatto, combatto la mia battaglia con quel microfono, cerco di portare comunque le mie rotture di coglioni a voi in ogni momento dell'anno, anche adesso dove sono tutti bene o male fermi, e io sono sempre indeciso, mi fermo, non mi fermo, è come magari un paio di giorni a ferragosto, che so, vi lascio stare, anche se non è da escludere che mi sveglio e mando un messaggio. Comunque, spero che, comunque voglio fare un piccolo punto con questo episodio, con questo bellissimo pezzo che rappresenta tutta la mia battaglia ideologica a livello di sonorità e di gusto. E' quello che voglio dire a ognuno di voi, grazie, grazie, perché comunque so che molti di voi spesso non sono magari d'accordo con quello che dico, con quello che faccio, però godono, diciamo, dei miei deliri, sanno quando scherzo, sanno quando gioco, sanno quando sono serissimo, ci sono persone di voi che godono proprio nel sentirmi quando magari sono un po' giù, che faccio delle riflessioni sulla vita, altri di voi che vogliono sentire il me incazzato battagliero, comunque una cosa è certa, sdoganando varie tematiche, facendo recensioni, ho l'opportunità io di scoprire me stesso e di darvi vari aspetti di me a 360. E voi che mi seguite qui forse siete quelli che più mi possono conoscere rispetto a chi magari conosce altri miei aspetti artistici, eccetera. Quindi vi ringrazio e vi voglio dire che io non mi fermo, che sono sempre qui a costo di farvi l'acido, a costo di farmi odiare, questo è il mio lavoro e lo farei anche se non mi pagassero. Oddio, in maniera differente, farei meno episodi, farei solo quelli più che sento dentro, magari manderei solo messaggi sociali seri, ne farei una settimana, due a settimana, insomma, se non mi pagassero la situazione sarebbe diversa. Però non abbandonerei mai il microfono, eh, questo lo intendevo, no? Perché voglio che magari tra un mese smetto di pubblicare. E no, ma avevi detto non resti mai finito. Eh, ho capito, che ti ho detto? I miei bisogni mutano nel tempo. Quest'oggi mi sento però in forma smagliante e non l'abbandonerei mai sto cazzo di microfono, sia chiaro, come non l'abbandonerei mai voi. One love! L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre.